Buongiorno, fatto il saluto, qui avrebbe dovuto esserci il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale a porgere i propri saluti, non ha potuto essere presente per motivi intercorsi nell'immediato, in pratica oggi abbiamo saputo che non poteva essere presente, ha mandato un messaggio, desidero inviarle un pensiero di vivo e sincero apprezzamento per l'iniziativa e colgo l'occasione per far aggiungere a lei, a tutti i partecipanti, ai relatori, i migliori auguri e un cordiale saluto Marco Filisetti, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche. Ecco quindi dovrete accontentarvi del mio saluto. Dico subito, porgere innanzitutto un ringraziamento e un saluto a tutti i relatori e a voi per essere qui presenti, anche a chi non fa parte della scuola perché abbiamo voluto proprio aprire questo convegno anche al mondo del lavoro, all'industria, eccetera. Ecco, mi si chiedeva poco fa quali ripercussioni ci sono state nel nostro istituto ricollegabili a quello che è l'argomento del convegno. Devo dire che il nostro istituto, l'istituto tecnico economico Gentili, l'istituto tecnico commerciale che è diventato poi economico, ha sempre avuto una forte attenzione, quella che voi voleste avere nei confronti ora miei e poi dei relatori, l'istituto ha avuto sempre una forte attenzione per le innovazioni, per la novità, dette in parole povere. Basti pensare che, è nato nel 1864 e questo telefono è testimone della nostra storia in qualche modo, però basti pensare che già nel 1984 l'istituto tecnico economico, l'istituto tecnico commerciale Gentili è stato il primo istituto commerciale ad avere un indirizzo programmatorio. E la dice lunga. Basti pensare che nel 1986, molto lontana come data, però abbastanza vicina, l'Italia è stata tra le prime quattro nazioni ad essere connesse con internet. E pensate, nel 1990, quindi pochissimi anni dopo, la nostra scuola aveva un'aula connessa ad internet il che ci aveva permesso a suo tempo di essere anche scuola di formazione per tutti i docenti noi assunti, cosa che siamo ancora attualmente come scuola polo per la formazione. I laboratori presenti nel nostro istituto sono tantissimi, voi studenti lo sapete, difficilmente in provincia di Macerata, ma io andrei anche oltre la provincia di Macerata, si trovano tanti lavoratori con tante postazioni e tutti con software e hardware di ultima generazione, si dice così. Nonostante le poche risorse disponibili, non è che abbiamo tantissime risorse. E proprio questa festa, noi stiamo attenti al piano nazionale della scuola digitale e proprio all'interno del piano nazionale della scuola digitale abbiamo pensato di vederci qui oggi per trattare un argomento interessantissimo di cui vi parleranno i relatori. È chiaro che qui cercheremo di riflettere insieme sul presente e sul futuro della società tecnologica in cui viviamo e sicuramente questo convegno, lo possiamo chiamare convegno, vero professoressa, offrirà spunti interessanti di approfondimento e di discussione. Ecco, quindi ringrazio adesso in modo specifico i relatori, la dottoressa Chiara Ercoli, presidente della sezione terziario innovativo di Convindustria Macerata, lo ricordavamo poco fa, non solo una nostra studentessa, ma una mia studentessa, io in quinto ho avuto la dottoressa Chiara Ercoli e forse, come dire, no forse, sicuramente il merito del suo futuro, di quello che è stato poi il suo futuro non va attribuito a me, anzi forse io l'ho rovinata, forse poteva uscire anche meglio. Marco Contigiani della Grottini Lab, non dico ingegneri, dottor, dottoressa, è un ingegnere, però non lo ripeto per altri, i titoli li lasciamo stare, però diciamo che il tavolo è pieno di persone, di relatori che sicuramente sanno il proprio, sanno cosa dire e sanno il proprio fatto. Emilio Antinori della Washab Macerata, Francesco Ciclosi, docente presso l'Università di Macerata, Pierangelo Soldavini, giornalista di Nova 24, Sole 24 Ore, che ascolteremo, non è qui sul tavolo dei relatori, ma ascolteremo in diretta Skype. Ringrazio, per ultimo, ma molto sentito, la professoressa Catarini, che non voleva essere ringraziata, ma è lei che ha organizzato l'evento, è lei che ha tenuto i contatti con i relatori e diciamo che è lei che ha permesso che questo convegno si potesse effettuare e sicuramente sarà un convegno che lascerà, spero, spero ma sono sicuro, che lascerà un segno in voi studenti. Quindi vi ringrazio, buon lavoro a tutti.